C'è ancora stretto riservo sui dettagli che hanno portato al fermo di Giacomo Gattuso, il 25enne accusato del tentato omicidio di Monsignor Giorgio Costantino, parroco del Divino Soccorso a Reggio Calabria. Gli investigatori in queste ore stanno attentamente vagliando le posizioni degli altri sei ragazzi presenti nella canonica la notte dell'aggressione. Le condizioni del sacerdote invece continuano lentamente a migliorare, sebbene sia ancora presto per poter dire quali saranno i tempi di recupero. Intanto dalla viva voce dei residenti del quartiere Gebbione emerge come schiamazzi notturni e comportamenti incivili siano frequenti nella piazza antistante alla parrocchia. Non sono cose che dovrebbero succedere queste cose. Ma lei come spiega che dei ragazzini così giovani possano aver fatto una cosa così brutta? Beh, l'hanno fatto brutta perché non lo vedono la polizia che tutte le sere fanno queste cose che è in piazza, io le vedo anche loro. Lei abita qui proprio di fronte, ma durante le giornate, le varie serate, ci sono spesso ragazzi in piazza che fanno schiamazzi o qualcosa? Sì, 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 ci sono spesso, molto spesso. Schiamazzi, grida, urla, rotture di vetri, di tutto di più. Una persona in casa propria, cioè che non può nemmeno dormire durante la notte perché gli schiamazzi non sono alle 9, alle 10, ma pure all'1, alle 2, alle 3 di notte. Quindi un poco di rispetto ci vuole, penso, no? Consolato Miniti per la CNews24.